Buongiorno a tutti ragazzi da PokerStarter3 subito con la seconda parte perché non riesco ad aspettare quindi andiamo subito 1,2,3,4,5,6 e 6,12 perfetto la prima parte è andata bene devo dire veramente bene quindi niente proseguiamo, sono qui per la prima parte dopo penso che farò un recap nella terza parte per farvi vedere il tutto qui i codici li tengo dunque abbiamo RoboSobstitute Luminion Sligu Gumi Moon Fletchling Roggenrola Pankabu l'area verso bellissima Manet Spirit Link e c'è qualcosa dietro uh ragazzi uh bellissimo Malamar X è abbastanza inquietante soprattutto la full art con questi occhietti socchiusi ecco questo è il giusto focus penso veramente bella comunque ottimo sta andando veramente bene questo box speriamo di continuare così andiamo avanti dunque crocono Henscope Henscope Boldor Dedenne Gligar Deino Krabby Spiron l'area verso un Roggenrola e la rara è uno Spiritomb è stranissimo però mi piace devo dire che mi piace sì passiamo a Mega Ringer Lissander Strumpcard Crocono Tierno che è il primo che trovo mi pare che berlina la maglietta con su un come si chiama il gelato insomma non mi viene in mente Vanillish qualcosa del genere Lilioptele Markro Venonat Finion Litlio l'area verso un Markro e la rara è uno Scavalier Sligu Tricoin Leopard Scarmory Galpin Freelish Totodile Alomomola Shona Reverse un'altra Terainer ottimo e la rara è uh Slarpuff Olo che non mi fa impazzire devo dire però ottimo c'è Dianzi Olo che è molto molto colorato e molto bello VS Seeker Lampent quanto è bello questo Furforo è veramente bellissimo Wismur Swirlix Pucina Yanma Spiro la Reverse è un Sharna che è una rara sì ottimo e la rara è un Yanmega ultimo pacchetto della parte sinistra del box come vi dicevo nell'altro video vediamo quale sarà la parte più fortunata ma per ora in questa parte ho trovato veramente delle belle carte vediamo nell'altro nella parte destra del box Rollerscape Laudrad carino Tierno Joltik Karablass Censi Bannovic Zubat la Reverse è un Fletchling e la rara è un Muncharna che ho trovato prima Reverse bene iniziamo la parte destra e abbiamo un altro Trick Coin Zuelos Leopard Bannovic Scarmory Alomomola Dedenne Litwick Golbat Reverse è la rara oh oh ok caspita Lissandro Strumpkart Full Art guardate che roba questa carta è fantastica wow spero si veda bene quanto è bella forse con un'altra luce in più vediamo dunque scusate ho aspettato un attimo che accendo la luce vediamo se no cambia assolutamente un caccia beh comunque ecco forse così si veda wow veramente bella ottimo sì mi sono supermata un po' troppo scusatemi ma wow davvero ottimo andiamo avanti dunque quindi ho già trovato due trainer full art mi manca la terza giustamente handscope swadloon spiro finian swirlyx markrow zubat banalby la reverse è un punkaboo e la rara è un explode cloud rollerscape farfru swadloon krabby bronzer deino carabla roganrola la reverse e la rara bellissimo talon flame mi piace molto questa carta penso che la facciano con il mazzo non sono sicurissima comunque veramente bella mi piacerebbe trovare di alga ex anche quello normale perché insomma vorrei vederla dal vivo la carta ecco shona trick coin target whistle spiro golpin yanma joltik klygar battle compressor reverse ottimo e la rara uh gigalitolo che non mi fa impazzire ma non male e l'ultimo pacchetto per questa parte ne abbiamo shona wabafet robo substitute fignion pucina si waddle censi gumi l'area verso un litlio e la rara è un venomo ultimo pacchetto per questa parte che è andata veramente bene anche questa ottimo abbiamo leopard golbat wabafet frilish helioptile purloin venonat moon la reverse è uno scavalier raro ottimo e la rara è uno yanmega bene ragazzi anche questa parte direi che non ci si può assolutamente lamentare ci vediamo alla prossima ciao ciao